Musica Ciao a tutti e bentornati su MTV Siamo ufficialmente ad aprile Il che vuol dire che è giunta l'ora di parlarvi Dei miei preferiti del mese che è appena passato Musica Per quanto riguarda i vestiti Il mio primo preferito è proprio il cardigan Che sto indossando in questo momento È caldo, morbidoso, grigia Quindi va bene assolutamente con tutto È un po' extra large, nel senso che arriva fino sopra le ginocchia E quindi ci si sente davvero avvolti da un peluche coccoloso Quindi lo sto adorando assolutamente Soprattutto in questa stagione che appunto è un po' di transizione Tra il caldo e il freddo Il secondo preferito è questa canottiera azzurra Questo è uno dei miei colori preferiti in assoluto Quindi quando l'ho vista sono imbattita Solo che il modello di canottiera mi piaceva così tanto Ne ho comprato anche altre due Una rosa con petto E una rossa Non giudicatemi per questa cosa Solamente che mi sono veramente innamorata Alla foglia di questo modello Si sta avvicinando la primavera e l'estate Quindi avrò molte occasioni per indossarle E appunto vanno bene Sia per l'uso quotidiano, tutti i giorni Sia per un'occasione un po' più speciale In cui bisogna essere un po' più eleganti Non ho resistito E il terzo e ultimo preferito è Questa giacca militare Perfetta sempre per questa stagione In cui bisogna vestirsi a strati Per non morire né di caldo né di freddo Era da un po' che ne cercavo una simile Mi sta piacendo tantissimo Per quanto riguarda i trucchi Il mio primo preferito è Questa palette Me l'hanno regalata a Natale Ma non sapevo cosa aspettarmi Perché appunto è un marchio che non ho mai provato prima Ha questi colori che sono un po' shocking Provati solamente di recente Ma mi sono un sacco innamorata Appunto sia dei colori Che in realtà della loro consistenza Della loro pigmentazione Che mi ha veramente sorpreso E il nome di questa palette È Unicorns Unite Quindi anche il nome È perfetto per me Altro preferito del mese È stata una cosa che in realtà Mi è stata inviata Da NYX Ed è la loro nuova linea di rossetti Quando ho visto che me li avevano inviati Io sono esplosa di felicità Perché avevo un sacco di voglia di provarli I colori nude Li amo Si possono sempre usare In qualsiasi occasione La linea appunto si chiama Le Plingerie Me ne hanno inviati seriamente tantissimi Quindi devo ancora provarli tutti Però per il momento questi sono alcuni Di miei preferiti Come ad esempio questo che si chiama French Made Ed è il numero 20 Questo che si chiama After Hours Ed è il numero 23 E questo che si chiama Seduction Ed è il numero 17 Appunto mi piacciono tantissimo i colori Perché sono versatili Una volta che li hai messi Non si arrivano da nessuna parte Sono matte E io i colori matte Li adoro Il mio cibo preferito del mese Sono i Pocket Coffee Che sono dei cioccolatini Ma con all'interno del caffè Quindi c'è una parte liquida al centro A me il caffè piace da morire Il cioccolato pure Quindi l'insieme di queste due cose È una specie di caffè dolce Che è la mia fine Sono una mia piccola salvezza Quando ho bisogno di un po' di energia vitale O di un po' di dolcezza Nella mia vita Per quanto riguarda i film In realtà il mio preferito questo mese Non è un film ma una serie tv Che ho cominciato a guardare solo di recente Ed è Modern Family È una di quelle serie appunto comiche Ogni puntata quindi dura una mezz'oretta Ed è davvero davvero simpatica Tratta anche di cose importanti Riguardanti appunto le famiglie Nella società di oggi Perfette per passarsi un po' il tempo Sia perché sono appunto abbastanza brevi Sia perché ti straffano sempre una risata Per quanto riguarda la categoria altro I miei primi preferiti sono questi orecchini ad anelli Che sono abbastanza semplici Però di fatto non ne avevo E li ho comprati di recente Mi stanno piacendo un sacco E li sto usando in continuazione E il mio secondo preferito invece Sono questi due chokers Uno è fatto a forma di acchiappasogni E l'altro cionglo è a forma di fiuma E mi piacciono tantissimo Soprattutto questo lo adoro assolutamente Per quanto riguarda la musica Le mie prime canzoni preferite Sono quelle del nuovo album di Michele Chiavi di casa Solo per un po' Due secondi Cancellare tutto Questo non sa copiere perché l'album è bellissimo E alcune delle canzoni del nuovo album Divide di Ed Sheeran Come ad esempio Happier Sono stata al concerto di JX e Fedez E quindi ho sentito questa canzone Che me ne sono innamorata Ed è Sirene di Fedez Fit Malika Yane Ho ascoltato tantissimo Fosse per me di Blue Virus Come nelle favole di Vasco Rossi Che ha un testo bellissimo Davvero bellissimo Ho scoperto Motta Che è un canto autone italiano Che fa musica appunto indie In particolare con le sue canzoni Ascoltate all'infinito Prima o poi ci passerà E la fine dei vent'anni E infine eccoci arrivati all'ultima categoria Che è quella dei momenti preferiti del mese Marzo è stato davvero un mese bellissimo Si sta avvicinando alla primavera Che era la mia stagione preferita in assoluto Io mi sento rinascere in questo periodo dell'anno E sono contentissima C'è un sacco di sole E io sono felice Innanzitutto proprio all'inizio e inizio del mese Sono andata a pranzo con mia cugina Nicole A mangiare dei sushi Mi ha fatto scoprire che il sushi mi piace un sacco Abbiamo passato un bellissimo pomeriggio insieme Il 3 marzo È stato il compleanno di Carolina Una delle mie migliori amiche E quindi gli abbiamo festeggiato Andando la sera stessa in una discoteca Fino nella mia città E poi il giorno dopo Che era un sabato C'è stata la sua vera e propria festa di compleanno A qui tra l'altro c'era anche Brian Quel weekend è stato veramente bellissimo Pieno di un sacco di momenti stupendi C'è stata la festa della donna L'8 marzo Che ho festeggiato con due delle mie donzelle preferite In questo mondo Cioè Lucia e Rachele E poi ho potuto pranzare con mia mamma Che è la mia donna numero uno È stata più una bella giornata Gli un po' pagna regalato le mie muse Le serate passate con Alice A fare aperitivi insieme Perdendoci il chiacchiere Divertendoci come Matte Ho fatto un paio di interviste televisive Insieme a Luca Bretta Per il nostro progetto del suo video musicale È stata la prima volta che mi capitava Di essere intervistata in televisione Poi sempre con Alice Sono andata al concerto DJ Axe e Fedez Ci siamo divertite un sacco Non andavamo a un concerto insieme Da tantissimo Loro sono stati bravissimi Il concerto era spettacolare Pieno di colpi di scena Davvero davvero Una serata fantastica Il 12 marzo Era il compleanno di mio papà E quello ovviamente È sempre un momento speciale E infine mi è capitato appunto Di poter passare del tempo con Brian Prima lui è venuto a Ferrara E gli è passato del tempo molto molto speciale Insieme E ha fatto mille cose Quindi sono andata a Milano Un paio di settimane fa Abbiamo vissuto dell'avventura davvero assurda Mi ha portato in un bar pieno di gatti Che si chiama Crazy Cat Cafe E io mi sono innamorata di quel posto Poi siamo andate alle Terme Che era il mio regalo di compleanno Da parte sua Ed è stato fantastico Una giornata divertente Rilassante Il meglio che potessi chiedere Siamo andati a cenare In un fast food Che c'è nella sua zona Era una specie di diner A tema anni 50 Abbiamo deciso di fare questa cosa Un po' pazza Un sacco Ed eravamo bellissimi ovviamente È stato un weekend veramente speciale Che non mi dimenticherò mai Solo a pensarci mi vengono i brividi È stato bellissimo Quindi riassumendo questo mese È stato wow Davvero davvero wow Ovviamente non è mancato lo stress Per la scuola E le giornate no Che ci sono sempre Però è stato veramente un mese pieno Di momenti bellissimi Speciali Con le persone che amo E sono un sacco contenta E poi è la primavera Io sono felice Yay Se il video vi è piaciuto Mettete un bel pollice in su Iscrivetevi qui sotto Nei commenti Cosa ne avete pensato Vi auguro una splendida Magnifica e meravigliosa giornata Ciao Al prossimo video Spera